Se la devono gustare, è un premio a quello che hanno fatto loro, ci sono ragazzi che lavorano tutto il giorno e che io li massacro tutte le sere all'allenamento, mi hanno dato l'anima e pretendo che me la diano ancora per una settimana. Un'intera stagione appesa a 5 incontri, 5 gare per conquistare la Serie B. Per adesso Prato e Arezzo sono pari. Quella che si giocherà al Palaestra sabato 27 maggio alle 18.30 è una gara importantissima per la Scuola Basket Arezzo dopo un campionato in Serie C Gold dove non era per nulla scontato rimanere nei primi posti della classifica. No, è stata una stagione anche inaspettata perché siamo partiti con l'obiettivo di fare bene, però poi ci si è resi conto che il campionato era di un livello stratosferico per essere una C Gold. Siamo riusciti nel giro d'andata a rimanere agganciati a quelle che erano in testa, poi abbiamo messo dentro Facundo Toia che ci ha dato il passo in più e siamo riusciti ad arrivare ai play-off. Adesso onestamente siamo una squadra di tutto rispetto, molti hanno avuto paura di noi negli ultimi tempi ed è stato giusto così perché poi abbiamo dimostrato di essere una delle più forti. Punto dolente, l'infermieria come ha messo? L'infermieria, l'ho chiesto a Fornara che si era infortunato durante la partita di dare tutto quello che aveva e da professionista il ragazzo stupendo che è l'ha dato, ha giocato in condizioni naturalmente si è visto che non poteva spingere ma ci ha dato comunque un grande contributo perché è un giocatore chiave. Adesso non si guardano più gli acciacchi, la stanchezza, ci troviamo una stagione, forse anche alcune carriere, me compreso in due partite, tre partite. Bisogna andare avanti in qualche modo. Quindi insomma manca il sigillo finale, forza e coraggio. No, manca il sigillo finale ma non va preso come un dentro fuori dal primo minuto, ce la dobbiamo gustare, ce la siamo meritata, forse l'ho detto anche ai ragazzi, siamo la squadra a essere meritata di più perché abbiamo fatto tutto di rincorsa, siamo sempre stati dietro, con Lucca è stata una serie incredibile che anche a livello di energie nervose ci ha tolto tanto ma ci ha dato tanto. Gara 3 sarà di fronte al pubblico aretino che potrebbe fare davvero la differenza dopo le prime due giocate a Prato. Siamo riusciti nell'arco di tutto l'anno a avvicinare sempre più persone, è cresciuta la passione anche tra i ragazzi del settore giovanile, l'ultima partita abbiamo visto molta più presenza anche di loro. Io spero tanto, ma soprattutto lo spero per i miei ragazzi che deve essere un premio a quello che hanno fatto, che si riempa questo palazzetto e che poi si dia continuità alla cosa.